L'edizione 2023 dei campionati italiani di cucina promossi dall'Associazione Italiana Cuochi ha visto tra i protagonisti e vincitori anche la brigata del ristorante L'Osteria del Trapp che ha sede in Valnerina. Il team guidato da Umberto Trotti ha infatti ricevuto la medaglia d'oro dalla giuria nella categoria della cucina tradizionale presentando tre piatti tipici della tradizione del nostro territorio. Fondamentale per la vittoria è stata la composizione della brigata, un insieme di esperienza e innovazione con persone di diversa età e provenienza che lavorano fianco a fianco per valorizzare i prodotti del nostro territorio e dare prova di inventiva e affiatamento. Insieme allo chef Umberto Trotti che prosegue la tradizione culinaria familiare ci sono professionisti esperti come Gina Vannucci, presidente della sezione Valnerina di Slow Food e un nutrito numero di giovani di età compresa tra 14 e 28 anni. Tra di essi c'è ad esempio Valentina, figlia dello chef Umberto e già protesa a continuare la tradizione familiare. Per lei la vita presso i fornelli si accompagna allo studio al liceo Donatelli. In questa brigata vincente figura anche il 26enne Jolly Oko di origini nigeriane che dedica la vittoria ai suoi conterranei dando loro un significativo esempio di speranza e successo visto che anche lui anni fa giunse in Italia a bordo di un barcone di disperati e oggi è perfettamente integrato nel territorio che lo ha accolto ed è un professionista affermato e apprezzato. I campionati si sono tenuti in Toscana, Campi Bisenzio i giorni 5 e 6 dicembre. I partecipanti sono tutti parte dell'Associazione Italiana Cuochi. Scopo dichiarato dell'iniziativa è promuovere, tutelare e supportare la categoria dei cuochi e del comparto enogastronomico. Da oggi quindi anche la cucina umbra dell'Osteria del Trap può vantarsi di aver contribuito a esaltare le tradizioni culinarie nazionali.